che brutta luce ragazzi ciao a tutti dolcezze dolcetti c'è l'alberello di natale là è un pupazzo è un peruscio un cucino allora il regalo di Valentina l'avete già visto e anche se non fa nessun rumore lo usiamo un po' oggi ok un buon video di suoni oggi anche se c'è una luce schifosa grazie Valentina la luce cambierà quindi mi vedrete un po' gialla un po' blu un po' bianca vabbè poi mi è arrivato ieri un altro regalo che non so però chi sei fatti riconoscere avevo già un altro rossetto della Mina Mina treina quindi Mina si legge giusto questo qui è quello rosa perché quello Newt me l'ha regalato Olga è di Lit Olga ciao Olga grazie per quello marrone adesso Olpa insamo labbra non ho messo il rossetto perché ho tutte le labbra scavolate comunque questo qui è il 362 mi è arrivato giusto ieri e faccio il video oggi che è sabato ieri era venerdì questo qui è appunto il numero 362 rosa rosa chiaro rosa Newt rosa Barbie insomma grazie mille palesa ti fatti riconoscere di Mickey 6 che mi hai regalato questo rossetto perché non c'era il biglietto né il nome né niente pacchetto di Amazon dalla mia lista Amazon ok è arrivato questo rossetto sempre ovviamente packaging vellutato e scatola in carta il resto è appunto vellutato rosa sembra marrone perché queste luci sfalsano da morire però è rosa fidatevi vi farò una foto perché fuori sta anche piovendo quindi le luci non si capiscono questo è rosa vedete l'altro era marrone questo qui è rosa grazie mille fammi sapere chi sei come ti chiami soprattutto che almeno ti saluto in un altro video ok grazie mille grazie 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 e a scatto e a calamita il packaging rosa vellutato come l'altro marrone bellissimo questo rossetto grazie mille e così no due e non avevo chiesto nessun rossetto a nessuno neanche a Olga non avevo chiesto neanche a questa ragazza sicuramente sarà una ragazza che mi ha fatto questo regalo ti ringrazio tantissimo veramente non eri obbligata a farmi questo regalo ti ringrazio molto grazie mille veramente super apprezzato grazie 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 lo vedrò nei prossimi video sicuramente ok ho già la maglia invernale perché fa freddo e questo weekend dicevano che doveva anche nevicare qui da me in Piemonte invece non ha nevicato ancora speriamo che nevichi domani o lunedì insomma questa palla gigante che mi ha regalato Valentina non fa nessun suono è anti stress ce l'ha qua dentro io ho mal di cola oggi ragazzi se mi vedete sbattuta in faccia così è così questa si incolla tutto è anti stress forse ci vorrebbe il blu ietti per fare tanti suoni con questo microfono si sente poco si incolla tutte le mani devo trovare un posto dove tenerlo mi viene voglia di tossire una caramella in bocca alla menta mi brucia la colla in una maniera allucinante perché giovedì mi sembra che sono andata la mia nonna paterna l'unica nonna rimasta e ho preso freddo ho preso freddo sono uscita anche se l'ho coperta giacca capello e sciarpa ho preso freddo e oggi sto così da due giorni che ho mal di cola ho un sacco di video da registrare meno male che alcuni li ho già programmati quindi quando caricherò questo video cioè quando registro questo video ne vedrete altri prima di questo video ne vedrete altri sicuramente meno male così almeno sono partita prevenuta insomma diciamo così meglio tardi che mai spero che mi passi sto mal di cola perché io non riuscirò a parlare anche se voi non notate forse nessuna differenza nei miei video però mi colla al naso non ho febbre niente né influenza né niente un po' di tosse mal di cola dal bruciore alla cola e il naso che mi dà fastidio quindi niente di grave però vedete che non fa nessun suono voi non vedete neanche le palline quando lo strezzo questa palla ci sono le palline ma voi non le vedete perché poi forse il cellulare non mette bene a fuoco però non fa nessun suono questo è solo antistress ti ringrazio valentina è blu è molto bello molto antistress lo uso anche fuori dai video jumbo si chiama jumbo ti ho già ringraziato ho già caricato il video quando mi è arrivato questo regalo da valentina forse non l'avevo messo io sull'amazon wishlist forse si forse c'erano altri di squishy sulla lista amazon nella lista amazon però va bene lo stesso facciamo un po' di suoni un po' di chiacchiere voi come state spero bene io ho fatto un altro video volantino tra virgolette catalogo del Lidl sul cibi di natalizi che vendono al Lidl io mi sento male oggi mi sento veramente la gola che mi fa incazzare mi fa incavolare quando siete nervosi questo qui compratevelo che è bellissimo è antistress secondo me non si rompe neanche l'unico problema è fatemi sapere dove lo tenete voi se ce l'avete in casa uno squishy così perché è appiccicoso è plastica è gommoso e ho paura che si incolli alla carta alla scatola di carta la plastica che lo circondava quando me l'ha regalato l'ho buttata via non fa nessun suono secondo me proviamo a star zitti c'è l'acqua dentro ma non fa nessun suono particolare comunque mi piace grazie Valentina grazie mille e la ragazza che mi hai regalato il rossetto fatti riconoscere fammi sapere chi sei così ti saluto e ti ringrazio in un altro video ok grazie comunque del rossetto secondo rossetto mina 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 bellissimo rosa scusate mi è nato sera io l'albero non l'ho ancora fatto in casa anche perché sapete bene che in questa casa c'è poco spazio quindi niente volevo andare questo weekend da vedere un villaggio di natale ma ancora da vedere se nevica non ci posso andare quindi vediamo ieri è piovuto stamattina è piovuto oggi anche poi adesso io uso questi microfoni piccoli vanno benissimo finché durano che funzionano va bene poi quando avrò magari un'altra casa e quando avrò un po' più di soldi ok magari comprerò anche se serve un microfono più professionale più grosso però sarà secondo me da attaccare tipo il fluietti sarà da attaccare al computer o al cellulare forse Ludovica Luvile ciao Ludovica Luvile ASMR lei usa il fluietti mi ha detto che non lo attacca al computer non lo attacca al cellulare quindi magari solo che magari vercelo anch'io però costa caro adesso quindi non me lo posso permettere adesso no non me lo posso permettere bello questo antistress bellissimo grazie Valentina grazie 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 è molliccio è appiccicoso è blu è gommoso bello veramente bello facciamo altri suoni questo adesso lo lascio qui è più grosso della scatola ah raga roba è più grosso della scatola vabbè cerchiamo di chiuderlo non so dove metterlo diversamente fatemi sapere dove si tiene questa palla questo squishy blu squishy blu vedete grazie Vale bellissimo blu e poi è uno dei micro preferiti quindi top facciamo un po' di suoni con questa collana è più grosso risaluto Petra 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 Peppe 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 e Yasmin Yas ASMR Yas Yasmin ciao gli ho salutato già nell'altro video ma vi risaluto un'altra volta oggi questo video lo finisco così perché ho il mal di gola ragazzi mi voglio di tossire e in diretta non posso tossire ok a presto buon weekend perché oggi è sabato quando registro il video ma chissà quando lo carico scusate la televisione se la vedete un angolo di televisione lo vedete voilà ecco l'albero così lo vedete meglio mi dispiace anche per la poca luce ma ho già la luce artificiale accesa sopra di me sul soffitto mi viene da tossire mamma mia che fastidio che ero coperta neanche fossi uscita senza sciarpa senza cappello l'altro ieri ero coperta mi sono presa il mal di gola lo stesso poi cammino anche scalza in casa solo con le calze senza pantofole quindi anche quello non aiuta esco anche sul balcone senza giacca quindi sono proprio stupida io però ormai siamo tutti raffreddati mal di gola chi c'ha la febbre chi c'ha la tosse anche mia madre ad esempio c'ha la febbre c'ha la febbre ma l'anni di stagione passeranno in fretta questa collana bellissima un po' infantile magari ma bella avevo anche il braccialetto lo sapete ma si è rotto quindi niente un sacco di bracciali collane bigiotteria voi avete già fatto i regali di natale io quasi tutti me ne mancherò ancora tre o quattro a presto farò anche tante ricette in ASMR se le volete soprattutto magari soprattutto magari se volete la torta a gocce di cioccolato con la ricotta faccio il video ricette in ASMR e anche sull'altro canale ok anche perché faccio i due video due ricette sempre in tutti e due i video in tutti e due i canali perché faccio due volte le stesse ricette perché sull'altro canale nessuno sa che ho questo canale qui non lo vado a dire perché la mia famiglia guarda i miei video e quindi non voglio dire che ho un canale ASMR sull'altro canale nessuno lo sa i miei parenti soprattutto dico la mia famiglia nessuno lo sa che ho un canale ASMR e va bene così finché non lo sanno va bene anche poi iniziano che magari vogliono farmi chiudere il canale e non mi piace questa cosa quindi per quello faccio due volte le stesse ricette e poi mi piace anche fare le ricette sia qui che sull'altro canale spero che vi piacciono ma c'è sempre qualcuno che critica purtroppo e non solo su youtube ma in generale soprattutto su youtube sto parlando adesso comunque vabbè vi vi lascia vivere ragazzi vivete e lasciate vivere la gente cioè non potete sempre trovare difetti in tutto quello che faccio io almeno a presto buon weekend spero che stiate bene ciao